Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è la giornata del profumo e io ho deciso di indossare per me un piccolo capolavoro che è lui, ossia Iris Nazarena, un profumo che adoro e che è forse diventato il mio Iris preferito in questo ultimo periodo, anche se ne ho altre che continuano a gareggiare per il podio. E' veramente un capolavoro. Tra l'altro non lo fanno più in questa confezione, per cui sono molto contenta di avere questa piccola chicca nella mia collezione. Oggi però voglio parlarvi di tutt'altro, ossia voglio parlarvi di quei profumi che Jo Malone ha creato per Zara. Quindi profumi molto economici, o comunque abbastanza economici, che però secondo me hanno una loro gradevolezza, non ha loro dignità, non ha loro comunque appunto piacevolezza. Sì, è la parola giusta. Non sono sicuramente profumazioni eccellenti, ma sono molto valide. Tra l'altro ho scoperto una linea di cui non conoscevo l'esistenza che mi è piaciuta tantissimo e quindi ve ne parlerò alla fine del video. Ma iniziamo subito con i due Zara Emotion che io appunto ho scelto e ho acquistato. Il primo è lui, Tuberose Noir, ed è una tuberosa molto classica, una tuberosa comunque elegante, sensuale, femminile, anche leggermente pulita se vogliamo. È un profumo molto lineare, molto piacevole e sul fondo comunque troviamo una nota di sandalo che non è però morbido, è un sandalo pulito, anche qui molto semplice, che non va ad appesantire la fragranza, ma l'accompagna in maniera molto molto naturale. Mi piace molto. Questa sensazione di pulizia comunque un po' questo sandalo la porta. Beh, fragranza molto piacevole che io tra l'altro avevo già acquistato tempo fa, ma avevo rotto. Questo formato, devo dire, non è proprio dei migliori. Quindi sono molto fragili, poi appunto essendo così sottili come vetro si rompono veramente facilmente. Però è un buon modo per provare delle fragranze. È la pena comunque di provarli, poi hanno un costo veramente molto ridotto e contenuto, quindi va molto bene. Passiamo alla seconda fragranza, che è questa qui. Water Lily di Dress, che è invece un profumo estremamente primaverile. Un profumo che ha il mughetto, che è sicuramente protagonista, ma un mughetto nella sua parte molto delicata. Non è un mughetto troppo eccessivo, non è un mughetto troppo presente. E questo mughetto è accompagnato da una parte aromatica, da una parte verde. È un profumo che io trovo estremamente primaverile. In questo periodo è perfetto. Estremamente fresco, estremamente spensierato. Insomma, è un profumo da tutti i giorni. È un profumo passepartout. Questo qui mi piace indossarlo veramente con leggerezza, ecco. Quindi lo consiglio. Ci sento anche una nota leggermente acquatica. Ma molto molto lievemente. Lo sento anche in realtà in un altro profumo di cui vi parlerò a brevissimo. Ma qui, diciamo che, secondo me emerge. Passiamo poi all'altra collezione. Quella legata alle città. E vi propongo, come primissima città, tra le mie preferite, Stunningly Venice. Eccolo qui. Questo è un profumo in cui ci sono prevalentemente i frutti rossi. Ma questi frutti di bosco hanno anche la connotazione un po' boschiva. Quindi anche qui c'è una parte molto ariosa. Quindi un fruttato non di quelli troppo dolci, troppo pesanti, ma quasi anche un pelino acidulo. Comunque veramente molto molto bello. Anche qui percepisco questa leggera sensazione acquatica. Forse appunto legata all'idea di Venezia. Quindi non so se è più una mia impressione, se realmente sia presente. Però è un profumo veramente molto buono. Tra le città sicuramente è una tra le mie preferite. Anche se sicuramente voglio tornare a sentirne altre, perché non ho avuto l'occasione di sentirla approfonditamente. Potrei allargare, come dire, la collezione. Prossima profumazione è Energetically New York. Qui c'è tutto un discorso da fare perché mi evoca un qualcosa che, come dire, mi scombussola un po'. È un profumo che è sicuramente al sandalo, ma un sandalo molto fresco, molto pulito, molto lineare. Anche qui è femminile. Probabilmente per questo tocco di gelsomino che ha al suo interno. E perché mi scombussola tanto? Perché a me ricorda l'odore di mia zia, che non c'è più, ma che è stata praticamente con me sempre, durante tutta la mia vita. E quindi non so se lo indosserò, se riuscirò ad indossarlo, perché veramente ogni volta che lo sento è un po' un colpo al cuore. Comunque un bellissimo profumo. Devo dirlo. Ultima profumazione di quelle legate alle città è la mia preferita anche. Ed è questa qui. Boldly Seul. Un profumo che contiene violetta e mimosa. Voi sapete che a me la mimosa piace tantissimo. Quindi, già leggendo le note, mi dico cosa voglio di più. Una violetta e una mimosa che sono dolci, ma non dolci nel senso zuccherine, dolci nella loro naturalezza. Quindi, un pochettino rimanda all'idea di fiori canditi, ma non è questo dolce zuccheroso dato appunto dallo zucchero. È più un dolce naturale del fiore, legato al fiore. Non sono però mai donate saponose, come di solito vengono utilizzate. Veramente questo profumo io lo adoro. È la mia città preferita, tra le proposte appunto di Zara. E ve lo consiglio tantissimo, almeno di andare a sentirlo, perché poi è anche particolare. Non è un accostamento di note che si sente spesso. Assolutamente. Quindi, provatelo. Poi, magari non vi piace, magari non fa per voi, però potrebbe essere anche una scoperta di note accostata in una maniera un pochettino diversa. Ecco. Ora, passiamo invece a quei profumi di cui io non sapevo dell'esistenza. non ho mai visto dei video, non ho mai visto nessuno parlarne, però anche qui sono nati in collaborazione tra Giumalon e Zara, però sono della linea bambini. Ve li racconto in breve. Allora. Il primo è questo qui. Ed è Rose Marshmallow Candy. Un profumo che contiene Arancia Rossa, Marshmallow e Vaniglia. Allora, io qui ci sento un inizio leggermente agrumato. Prima di tutto vi dico che secondo me sono dei profumi indossabilissimi da una persona adulta. Magari quando vuole essere un pochino più frevole, un pochino più sbarazzina. Ecco. Non sono dei profumi che spruzzerei come non ci fossero domani su un bambino. anche perché questo in particolare è abbastanza impegnativo. Come vi dicevo, c'è questo inizio leggermente agrumato, però forse in realtà questi agrumi sono più fiori d'arancio che agrume. Poi diventa invece molto molto dolce. Un marshmallow con questo tocco probabilmente dato dalla rosa che però non c'è in nota leggermente amarognolo che è sì molto semplice, ma bello importante nel senso che si sente molto. Io per esempio lo devo indossare con moderazione perché mi infastidisce. Cioè se lo utilizzo con come dire in quantità importanti non so se è stato un caso o che ma avverto anche mal di testa. Quindi tra l'altro quando ne metto tanto non mi piace nemmeno così tanto come quando ne metto meno. Ecco non so se si è capito ma il troppo qui secondo me è storbia. La dorata comunque è eccezionale quindi ne basta davvero poco e soprattutto è meglio averne poco. Della stessa linea ho scelto anche Hip Hop Red Apple il colore mi fa impazzire la boccetta è meravigliosa il profumo contiene mela verde mela rossa e mela gialla ed è un profumo alla mela io percepisco principalmente la mela rossa e questi siamo di fronte a un profumo davvero bambino molto semplice non particolarmente duraturo un profumo infantile bambinesco però in questi giorni di primavera quantomeno secondo me non è affatto male. Tra l'altro questa linea che è composta da tre profumi si completa con un profumo che non ho acquistato perché non mi faceva particolarmente impazzire che era al Watermelon ma lo sentivo troppo avete presente quelle cicche quelle bubble gum a forma rotonda appunto di anguria quel sapore lì ecco per me era quello ma erano anche molto molto poco persistenti molto evanescente per cui non mi piaceva tanto da acquistarlo per cui non l'ho scelto ma diciamo che volendo c'è anche lui io questi due per la loro semplicità comunque ve li consiglio non sono affatto male ecco diciamocelo se vi aspettate qualcosa di artistico qualcosa di super 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 come dire elaborato allora vi dico già no ancora sempre nella linea per i bambini ho fatto la scoperta più grande ma non è questa qui di cui vi parlerò per prima ma l'altra allora questo qui il primo è l'Epetit l'Allabai ed è un profumo che contiene semplicemente muschio e pera quali caratteristiche allora io non lo sento molto sento lievemente proprio questa nota di pulito ma veramente qualcosa di quasi impercettibile questo muschio e questa pera veramente sono non delicati di più però ha una consistenza molto particolare se vedete questo profumo fa queste bolle e quando voi lo andate a vaporizzare io adesso non so se vedete però lascia questa sorta di lattiginosità c'è questa questa consistenza appunto lattiginosa non so per quale motivo ma non mi fa impazzire ecco adesso lo percepisco veramente pochissimo tra l'altro non mi dispiace pur quasi non sentendosi cioè io lo metterei comunque vedete di quei profumi proprio forse questo qui veramente ha dato un bambino a un neonato perché non si sente praticamente nulla e così anche la crema però devo dirvi che invece c'è stata la scoperta sempre appartenente a questa linea che è The Golden Lallabye questo profumo qui in realtà è secondo me una chicca una vera chicca perché qui c'è come nel Petit Lallabye lo metto qui vicino così si vede anche la differenza proprio di consistenza c'è sempre la pera e c'è sempre il muschio ma qui c'è l'ambroxan io lo trovo veramente molto piacevole perché dà l'idea di pelle pulita ma se ne può utilizzare veramente in quantità io lo trovo molto rilassante lo trovo veramente tanto tanto piacevole tra l'altro io poco tempo fa ero andata alla scoperta dei profumi molecolari e vi devo dire che questo compete veramente alla grande con quel tipo di profumi di nicchia ritenuti tra virgolette molecolari compete perché è veramente molto molto come dire leggero ma persistente e questa sensazione di pulito permane a me è piaciuto tantissimo per chi vuole avvicinarsi al mondo dei molecolari ma non vuole spendere troppo non vuole spendere tanto non vuole investire tanto ma si vuole avvicinare con calma questo è sicuramente un profumo fantastico fatemi sapere se anche per voi è così per me è la più bella scoperta di tutti questi di giumalon per zara anche se devo dire che questa linea per bambini non mi ha affatto dispiaciuta mi ha dato mi ha come dire strappato un sorriso questo è veramente il top dei top mi piace tantissimo non si trova in molti negozi di zara ma ma si può comunque prenotare online e quindi non ci sono problemi quindi questo è super consigliato fatemi sapere se vi è piaciuto se l'avete provato se avete qualcun altro di questi profumi se avete delle altre città di zara da farmi scoprire che secondo voi sono interessanti e ci vediamo al prossimo video ciao